ciao sono panos sono il tuo partner per la comunicazione vincente e oggi a before and after andiamo a vedere come fare i confronti vediamo la prima soluzione e poi la seconda soluzione rifatta da me mi raccomando guarda e poi scrivi nei commenti cosa ti è piaciuto e cosa miglioreresti allora a proposito di statistiche e a proposito cose che potrebbero essere un pochino vi faccio vedere l'ultimo lui pronti questa della donna abbiamo finalmente anche una donna che presenta ecco vorrei ora oltre diciamo avervi raccontato un po quello che è il mio approccio le mie idee di approccio strategico no questo a questo tipo di attività vorrei vedere un po insieme a voi i dati ecco come dicevo scelto questa case history con questi dati così significativi per avere poi una rilevanza una rilevanza statistica perché visto per proporre diciamo dei dati di google analytics che ci permettono di vedere come i diversi canali interagiscono o diciamo si attribuiscono poi la conversione no quando abbiamo una sovrapposizione tra le diverse bolle abbiamo probabilmente un utente che per abbiamo una sovrapposizione di del nostro target rispetto ai diversi canali utilizzati no quindi quando pensiamo alla ricerca organica pensiamo a tutto il mondo della seo quando parliamo del traffico diretto in realtà pensiamo a tutto il mondo diciamo sia di utenti che in realtà ci conoscono già digitano diciamo il nostro indirizzo ma soprattutto poi anche di attività indirette perché spesso poi il diretto si mangia ecco anche tutto quello che dai social viene e poi abbiamo diciamo tutta la parte di advertising dei social network e delle campagne a pagamento come vi raccontavo all'inizio in questo caso abbiamo cominciato a lavorare con strutture molto diverse che avevano uno storico precedente alla nostra azione diciamo combinata di campagne di gruppo in questo caso vi sto portando i dati di una di una delle strutture che aveva uno storico importante online che quindi prima ancora di diciamo iniziare a lavorare con noi aveva lavorato da sola con degli investimenti importanti con una storicità quindi come vedete nel già nel 2021 la bolla diciamo del dei risultati organici era quella verde era molto 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 ampia ecco e anche la parte diretta quindi la storicità era importante in questo caso abbiamo lavorato come vedete la parte ecco avete le percentuali saltati gli allineamenti ma ecco la parte di investimento è stata fortemente nel 2021 sta fortemente spostata sul canale facebook e come vedete ecco la bolla viola che c'è in basso parlato un po che non si sentiva vado è molto più grossa diciamo di quella di google ads ma soprattutto ci ha permesso di espandere il nostro pubblico quindi non andare a coprire un pubblico che la struttura intercettava già tramite altri canali che non erano a pagamento infatti poi l'anno come vedete invece la parte di google si soprapponeva molto a quello che era già la audience di riferimento motivo per cui abbiamo lavorato molto di più sulla parte sulla parte facebook per evitare di andare a cannibalizzare poi attività già dove l'utente diciamo veniva già raggiunto intercettato mentre quest'anno abbiamo provato a spingere un po di più ecco anche sulla parte google come vedete l'investimento è stato un po più spostato ovviamente questi sono dati poi ancora parziali della stagione ecco è una struttura che ovviamente avendo una forte storicità online aveva già una sua parte organica infatti il paid ha inciso molto non tantissimo ecco su sui risultati delle della stagione quindi abbiamo un 20 per cento rispetto al al totale delle rigenerate portate dall'attività di advertising interessante anche andare a vedere poi gli utenti come hanno risposto alla parte di offerte quindi la percentuale di offerte rispetto ai forum di contatto come dicevo spesso noi utilizziamo comunque le landing page specifiche ma poi l'utente va a navigare in maniera autonoma all'interno del sito proviamo a vedere se riusciamo a aggiustarci non ne fatti allora signori vi parlo del caso del rinomato hotel non ho messo il nome del nostro hotel lo chiamiamo rinomato era un hotel importante che aveva già lavorato per i fatti suoi per la conquista di questi lead ossia dei contatti che si possono avere delle persone nei form e nel momento in cui ci siamo affiancati lui ci ha dato le informazioni su quello che erano le informazioni raccolte negli anni precedenti lui ci ha detto che ha lavorato tendenzialmente con la ricerca web quindi arrivavano da gente che scriveva il nome dell'hotel su google normalmente e gli arrivava nel secondo caso sito dell'hotel gente che già lo conosceva quindi andava direttamente nel sito dell'hotel compilava il form e lo mandava diciamo voglio una camera dal oppure con delle campagne facebook fatte direttamente su facebook c'è un'offerta e via dicendo oppure pagando google e piazzava degli annunci o nelle ricerche quindi le ricerche non organi a pagamento quando voi vedete su google in alto i primi che arrivano c'è scritto sponsorizzato vuol dire che quell'hotel in questo caso ha pagato per essere là in alto quindi questi sono i quattro modi per raccogliere le informazioni su il nostro rinomato hotel ci ha dato una case history antecedente al 2021 prima del 2021 e ci ha detto che la maggior parte essendo rinomato arrivava dalla ricerca di google normale quindi cercavano hotel emilia romagna e gli arrivava già direttamente un'altra parte che si interseca dal insieme alla ricerca era quella del sito degli hotel queste due sono le parti più importanti da lì arrivavano normalmente le informazioni sui a noi ci hanno detto ragazzi vi diamo un budget 8490 fatelo brutta allora sempre guardando quello che loro avevano come storico abbiamo visto che la parte di google cioè quella della google ads pagamento su google per far comparire l'hotel o nei banner o nella ricerca andava più o meno a metà a intersecarsi con quello che era già il nostro pubblico cioè il sito web e la ricerca mentre la parte di facebook era ben più fuori quindi andava a prendere una parte più importante delle persone che non si conoscevano ancora allora abbiamo detto come potete vedere che parte di facebook abbiamo investito di più sulla parte di facebook vedete che il cerchio è più grosso rispetto a quello quindi questo budget alla fine l'abbiamo messo 25 per cento su google e il 75 per cento l'abbiamo messo su quali sono stati i risultati i risultati sono stati che la parte di leads a pagamento facebook e google è stata sul totale del 20,5 per cento quindi la parte di percentuale contatti generate a pagamento di questi il 16,5 da facebook e il 4 da google ok ovviamente l'abbiamo riproposta nel 2021 facendo delle correzioni abbiamo avuto un budget aumentato del 3 per cento quindi comunque avevamo qualcosa di pay leads sono cresciuti del 4 per cento siamo arrivati al 24,4 per cento e in questo caso una cosa interessante che abbiamo valutato è che facebook ha contribuito questo 24,4 meno dell'anno precedente meno 2 per cento mentre google pur avendo più o meno lo stesso budget stanziato per lei ha fatto un salto più avanti quindi abbiamo avuto un 4 per cento in più sul sui risultati del pay leads è quello il vero significato del confronto la differenza di percentuale subito intuitiva e detta così non che io mi devo andare a vedere la roba dai cercare di capire premetto che io non so se fosse veramente quello quello cui bisognava focalizzare però però che fai un confronto vuoi mettere quello cioè se tu decidi di fare una slide del confronto vuol dire che luci insomma coloro che ti esito ascoltatori insomma chi sta osservando il tuo discorso e le slide a fare un paragone e il paragone lo fai intuitivo se metti cioè detto così in una schermata è stato chiarissimo come prima allora se ti sono piaciuti questi nuovi confronti mi raccomando metti un bel like a questo video attiva la campanella iscriviti al canale così anche tu farai le presentazioni meglio del 87,44 per cento delle persone ciao